Non c'è bisogno che c'erano netti vecchie di c'erano nel palco Purtroppo le condizioni che erano al mare dovevano essere a 13 miglia non potevo fermare i soldi guardavamo male per nuovo perdevo un po' il muro e non potevo rinunciare Gli impici ci hanno detto che coordinano loro la cosa e ci hanno spedito questa cosa qua e ce l'hanno fatta avere l'altitudine e la longitudine cioè dove dice che ci dovrò mantenere distante allora miglia noi abbiamo ricevuto questa e dice dovete stare almeno ad 8 miglia da questa posizione a quel punto noi questa è la posizione ok 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 e quindi praticamente noi abbiamo registrato questa posizione qui da 33, 38, 11, 14 e ci siamo allontanati verso est di 20 miglia circa quindi abbiamo detto vabbè ci hanno detto così dobbiamo andare via quando noi stavamo in rotta a un certo punto ci è arrivata un'altra segnalazione di boomberg che a mezz'ora da noi mezz'ora da noi un'ora da noi c'era un'altra barca di stress grazie